amici di motosport.com ciao a tutti gran premio di monaco vittoria ferrari vittoria di charles clerc si sblocca il monegasco che vince a casa sua di questo e di tanto altro andiamo a parlare adesso con i nostri esperti gli inviati che erano a monaco e mi riferisco a roberto chinchero e giorgio piola che saluto ciao buongiorno a tutti ciao 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 cominciamo allora la nostra analisi di questo gran premio che credo rimarrà storico nell'ambito di quelli che sono i ricordi del mondo di maranello con un fred vasser di solito molto distaccato spinto in mare e soddisfatto di aver fatto un bagno fuori programma roberto dammi una chiave di questo gran premio così particolare beh in effetti la scena ci ha sorpreso un po anche perché sembra che leclerc lo butti in mare e le siano messi d'accordo se avessero vinto la gara si sarebbero buttati nelle acque del porto che devo dire franco era tutt'altro che calde tra l'altro io ho fatto due valutazioni di questa corsa ce n'è una sull'importanza sportiva di questo risultato è una che coinvolge un po l'aspetto emotivo ha contagiato un po tutti noi che eravamo presenti leclerc non ha mai non ha pianto quando ha vinto la prima gara in belgio non ha pianto quando ci fu il bagno di folla monza ed era un'immagine incredibile che è rimasta uno spot per la formula 1 quella della vittoria del 2019 col podio e la marea rossa sotto credo che ieri sia stata qualcosa veramente di particolare un po per il conto aperto che aveva con la sua gara di casa un po per il significato personale che riveste per lui questo questo successo e un po aggiungo anche perché arriva dopo un lungo periodo di digiuno perché poi tempo corre veloce ma l'ultima gara che ha vinto era stata in austria nel 2022 quindi c'è anche un aspetto sportivo importante in questo lasso di tempo aveva vinto due gare carlo sainz quindi aveva bisogno di di tornare al successo lo ha fatto in un modo perfetto io credo che grossa parte del merito vada al giro di qualifica di di sabato è stato quello il grande valore aggiunto del del fine settimana ieri ha capitalizzato una corsa che va detto ha saputo andare oltre dei problemi che in un recente passato gli facevano perdere il controllo della situazione perché hai ragione la sostituzione del motore che nel momento in cui hai un weekend dove stai dimostrando il tuo massimo per un piccolo problema ma comunque vedere la squadra che rincorre eh ogni bullone poi deve essere messo a al posto giusto nel momento giusto perché non hai margine eh andando in Q1 senza poter fare un giro il fatto che si stacchi un pezzo eh dei cartelloni pubblicitari di plastica e ti finisca nell'ala e ti faccia perdere venti punti nella Q1 di 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 qualità aerodinamica beh devi poi avere una buona consistenza per non perderti in in cose che abbiamo visto nel passato è rimasto molto calmo e anche come ha gestito la corsa chiaramente tutto eh si auguravano in Ferrari eh ma non certo una bandiera rossa che comunque mette un po' in discussione la strategia ogni variabile per loro era solo una potenziale causa di problemi perché avevano la macchina nella posizione migliore e un ritmo di gara molto buono eh però hanno tenuto i nervi molto saldi ieri devo dire che hanno gestito bene la corsa hanno fatto il loro ritmo eh a un certo punto giravano dieci secondi più lenti della polla a un certo punto della gara cioè un ritmo veramente lento e e poi quando c'è stato da spingere passo ce n'era per cui è stato più un lungo conto alla rovescia a prova di nervi che non diciamo una difficoltà tecnica nel raggiungere la bandiera scacchi. Secondo te cambia qualche cosa nell'approccio del mondiale da un pilota che lasciami usare il termine si sblocca? Sì sì credo di sì credo che eh eh leclerc è un po' emotivo e come eh delle volte ha eh questo aspetto gli ha causato qualche problema eh in questi casi diventa un boost diventa un valore aggiunto credo che alla fine eh dia fiducia ritrovare il successo ritrovarlo poi dove sembrava più difficile in assoluto c'è una gara stregata per lui sicuramente fa bene al morale poi in merito sarei molto prudente in merito alla classifica eh del mondiale però vediamo nel senso passo dopo passo nelle ultime tre gare la Red Bull ha vinta una già questa è una grande notizia per gli avversari. Giorgio eh siamo un'analisi che può essere estremamente interessante perché la McLaren aveva vinto a Miami eh a Imola abbiamo avuto eh una Red Bull che si è aggrappata agli specchi ma è riuscita a vincere con eh dietro subito dietro la McLaren e quindi la Ferrari era apparsa a terza forza. Qui eh si rimettono in discussione le cose tu mi dirai ah Monte Carlo non conta però eh mettendo in fila i pezzettini eh c'è una Ferrari che è eh seconda nel mondiale postruttori seconda nel mondiale pilota. Sì eh è una situazione che è molto diversa da quella che abbiamo vissuto l'anno scorso e soprattutto dopo le primissime gare. Eh è venuto fuori che la Red Bull qualche punto debole ce l'ha anche lei un po' nel raffreddamento ma soprattutto nella sospensione posteriore nella sua rigidità di assetto che l'anno scorso non è venuto fuori perché era tale la superiorità e soprattutto gli avversari non erano riusciti ad impensierirla per cui veramente non si è mai dovuto andare al massimo per difendersi. Lo abbiamo visto a Imola. Verstappen ha fatto è dovuto uscire lungo con un gravissimo sottosterzo il venerdì ha dovuto fare tanti errori addirittura in gara ha rischiato con la bandiera bianca e nera eh per i track limits. Quindi una monoposto che rivela qualche problema e adesso che gli avversari sono cresciuti e in prestazioni sono molto simili e anzi in alcune occasioni come abbiamo visto a Miami superiori ecco che diventa una stagione che si apre. Di qui a pensare al mondiale sarei anch'io molto molto prudente come Roberto. Però la cosa importante è l'aspetto eh sottolineo tutto quello che ha detto Roberto perfettamente giustissimo eh è una bella svolta per il Cavallino una bella svolta soprattutto per le Clerc perché come dicevi anche tu era in un periodo difficile nervoso invece questa vittoria a casa sua gli ha ridato tutta la sua posizione la sua fiducia e quindi sarà una sarà una stagione veramente molto bella. Dovrà difendersi da Ferrari non soltanto dalla Red Bull ma anche dalla McLaren che ieri non ha potuto impensierire più di tanto le Clerc in gara però sulle prossime piste io vedo una McLaren molto forte. Giorgio sono curioso di due aspetti hai parlato di sospensione posteriore della Red Bull di una macchina che patisce eh le sconnessioni di una pista cittadina come quella di Monaco ma eh dalle dichiarazioni di di Verstappen è emerso che la RB20 doveva essere la risposta a questi problemi che loro avevano già visto l'anno scorso ma che grazie alla superiorità tecnica della 19 eh non avevamo visto noi. Eh c'è modo di risolverlo secondo te in sviluppo eh o diventa un problema per cui ci saranno gare on off dove eh vedremo una Red Bull straordinaria magari a Barcellona che è come una galleria del vento e poi difficoltà come potrebbero essere Singapore o altri circuiti. Eh esattamente come hai detto tu credo che loro in definitiva abbiano fatto un calcolo molto cinico eh questa vettura patirà su due tre quattro piste tra cui appunto sicuramente penso sarà Singapore però dovrebbe essere ipercompetitiva e quindi essere al meglio sulle altre piste quindi nel bilancio credo che siano rimasti abbastanza la sospensione posteriore credo sia rimasta eh praticamente la stessa quindi non si è cercato dei correttivi in quella direzione. Ovviamente credo non si aspettassero una risposta un fiato sul collo così pressante dalla McLaren e adesso anche dalla Ferrari anche se Monte Carlo non è eh non da una pagella di risultato tecnico eh Monte Carlo è una pista completamente diversa la gara la si vince praticamente in qualifica e qui è stato veramente magistrale Charles e poi in gara come diceva Roberto è stato soltanto un andare in fondo senza evitando errori perché il trabocchetta Monte Carlo la piccola distrazione e ti becchi il gara subito su una ruota ovvio che le macchine a Monte Carlo sono state tutte rigidite sia al bracetto della dello sterzo davanti quello della convergenza dietro però bisogna stare attenti quindi fino all'ultimo momento non sei sicuro di aver vinto e però non è mai stato veramente impensierito ha magistralmente condotto la gara ovviamente aiutato dal box e non si è nemmeno potuto prendere quella soddisfazione di andare un po' più forte che è stata una cosa bellissima quella posso farvi vedere di cosa è stato stupendo e quella risposta che gli è stata data no guarda adesso non ci interessa lo sappiamo quindi una credo da Ferrari e Charles escono da questa gara molto più forti che non sia soltanto limitato all'aspetto tecnico eh moralmente tutto ma anche lo stesso Sainz eh uomo squadra ha festeggiato contento di rivedere il proprio compagno di squadra al cento per cento quindi la Ferrari si continuerà a essere più forte da da dopo Monte Carlo. Ecco Roberto eh l'analisi di Giorgio è giustissima poi ricordami Giorgio perché ti voglio fare una domanda su Adrian e lì non puoi scappare eh abbiamo visto appunto una Ferrari monolitica la sensazione è che in questo momento tutta la squadra stia tirando nella stessa direzione hai avuto quel quel senso quella sensazione lì anche tu che eri lì a Monte Carlo? Eh sì guarda la presenza del del presidente John Elkan a Imola qui ehm è una presenza importante diciamo che è una presenza silenziosa rispetto quando mi ricordo quando quando arrivava eh presidente Marchionne e tutt'altro tipo di eh di accesso andava bastava la notizia del suo arrivo per spostare frotti dei giornalisti lui non parla quei media quindi è una presenza silenziosa però è una presenza che si sente anche ieri poi eh l'ho visto che ha voluto stringere la mano a tutti in squadra dopo la vittoria ehm alla fine è è un qualcosa che serve per eh ai fini pratici a far capire che ha dato le chiavi a Vasser ha dato le chiavi della casa della della squadra a Vasser e questo a Maranello serve molto perché quando ci sono degli attriti all'interno o dei dei compiti non chiari eh si innesca poi la classica situazione caotica cominciano lotti di potere adesso la responsabilità onere e onore sono sulle spalle di Frederico Vassere questo funziona in Formula 1 dico non soltanto a Maranello funziona la Formula 1 è così cioè devi avere una persona forte in grado di prendere decisioni di assumersi le sue responsabilità poi la pista dire se sta lavorando bene o male io ho visto una squadra solida ehm eh alla fine anche il terzo posto vedi poi quando gira tutto bene il terzo posto di Sainz eh c'è stato un momento in cui non si capiva l'ordine di partenza e con cui sarebbero ripartiti poi l'abbiamo scoperto dopo dopo la gara ehm praticamente deve pagare una cena a Joe Guanyu il buon Sainz perché l'ordine eh sarebbe stato l'ordine di di ripartenza sarebbe stato quello del primo settore eh se tutte le macchine fossero transitate in quelle macchine in corsa fossero transitate in quel tratto Joe era dietro le macchine eh coinvolte nell'incidente quindi Magnussen, Hulkenberg e e Perez quindi lui non è riuscito a passare sotto il primo settore è rimasto bloccato dietro dietro l'incidente l'unico a essere bloccato quindi non c'era la classifica del primo settore quindi sono dovuti tornare indietro alla qualifica e questo ha fatto sì che Sainz recuperasse la terza posizione. Ecco bravo Diego Jovern eh nel riuscire a far valere le sue ragioni perché mi verrebbe da dire in un passato recente abbiamo visto una Ferrari politicamente poco forte nel far valere le sue ragioni e anche questo mi sembra un segnale di un cambiamento o sbaglio? No beh diciamo la Ferrari ehm si sta facendo sentire questo questo ma un po' su tutti i tavoli credo eh non soltanto e chiaramente anche una persona d'esperienza come Joverno ehm fa valere le sue le sue ragioni eh presso il direttore di gara o c'è stato anche una una presa di posizione della Ferrari per il problema dei dei gli striscioni eh li chiamo striscioni ma insomma quei 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 drappi che sono attaccati sul garaio con gli sponsor perché effettivamente la Ferrari lì ha rischiato grosso in qualifica eh perché è uscito di sequenza le Clerc a causa dello stop e sono d'accordo un po' quando si cresce poi si cresce meglio ieri sera Fred Vasseur ha detto ehm le vittorie aiutano anche ad acquisire fiducia dopo una vittoria ti dedichi di più ai dettagli perché sei più certo del lavoro che hai fatto quindi ti diciamo dedichi più tempo poi a cercare anche quel dettaglio o qualcosa che quando invece magari hai l'ansia da risultato in quel momento non non ci presti tanto caso perché stai seguendo l'obiettivo principale ehm sì credo di sì hanno anche hanno anche detto attenzione arriveranno piste che non saranno le nostre piste ecco lo scenario che si sta creando è quello di un equilibrio tra tre squadre ehm nel quale il eh il track effect la tipologia di pista il tipo di asfalto il tipo di mescole utilizzate quel weekend potranno fare la differenza ce l'auguriamo un po' tutti perché vorrebbe dire anche una certa imprevedibilità dei risultati ecco tutti e due non volete parlare di mondiale che si riapre magari a livello di costruttori però eh con un Perez che è in difficoltà qui non è colpevole di aver fatto l'incidente eh subito dopo la partenza è colpevole di essere diciottesimo in griglia se era nella posizione doveva dove doveva essere probabilmente non sarebbe rimasto coinvolto in quel patatrac però se l'analisi la facciamo eh diciamo che c'è supermax in grado da solo di tenere in piedi la 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 Mercedes la Red Bull ma eh abbiamo poi due squadre che arrivano appunto con due punte sia la Ferrari che la McLaren e questo a a gioco lungo può avere un peso estremamente importante Giorgio sì eh anche perché le altre due squadre le due rivali della Red Bull hanno tutti e due due piloti in grado di poter lottare per la vittoria eh quindi da questo punto di vista la Red Bull si trova leggermente in difficoltà però Paul Monegam quando abbiamo fatto il show and tell del venerdì a una giornalista brasiliana che gli ha detto Perez ha detto che avete bisogno di novità e lui chiederà sì lo andrò a chiedere poi dopo un po' invece si è smentito e fa e ha annunciato che ci sarà un pacchetto di 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 novità tecniche sulla Red Bull quindi sicuramente non staranno fermi quindi il fatto di aver visto gli avversari vicino ma molto probabilmente erano anche soluzioni già studiate prima quindi il il mondiale sarà apertissimo eh credo in certo quello che è buono che eh Red Bull in questa situazione dal punto di vista piloti si trova in in difficoltà rispetto alle altre due squadre e quindi questo è un fattore che bisogna sfruttarlo bene. andiamo il ragionamento sulla Red Bull sono molto curioso di sapere qual è il tuo parere Giorgio perché eh Adrian Newey sembrava che se ne sia andato abbastanza stizzito nel rapporto cambiato con Christian Horner poi eh macchina in leggera difficoltà lui presente in autodromo per promuovere la Hypercar la RB17 ma eh il primo giorno senza divisa il secondo giorno torna essere eh a tutti gli effetti l'uomo della Red Bull con tanto di taccuino rosso eh come dobbiamo leggerlo? Tu ci hai parlato che che sensazione dobbiamo trarre da questo strano rapporto? vado via non vado via eh io io vedi quando tutti dicono dove andrà eh Giorgio tu magari che lo conosci magari puoi sapere io credo che anche il giorno che Giorgio eh firmerà per una delle tre opzioni di cui si è parlato in quella stessa giornata forse ha avuto una talenanza di di decisioni completamente diverse potrà cambiare persino nello stesso giorno perché lui è imprevedibile è molto da questo punto di vista è molto che va a senza o umore io quando tu dici che eh l'ho incontrato però l'ho incontrato quando era in borghese e la nostra conversazione è stata del tutto informale era gasatissimo di avere con la Lotus 49 passato vetture molto più moderne soprattutto le Williams FV07 fra l'ora guidata da Zac Brown e era gasatissimo. Diciamolo la settimana prima Gran Premio Historique di Monte Carlo dove eh Adrian è arrivato quarto coraggioso eh perché con quella macchina lì eh chi tirava una nasata ci rimetteva le gambe quindi no no ma ti dico era era gasatissimo come credo che sia la cosa che gli abbia fatto più piacere ancora magari di una vittoria di una sua macchina perché è andato forte io glielo ho detto ma scusa ma sei hai rischiato tantissimo era il sorriso così come non non lo si vede mai quindi è stata una conversazione del tutto eh informale però ripeto io sono convinto che eh non dobbiamo fare previsioni perché potrebbe fare qualsiasi sorpresa anche se ovviamente la sensazione è quella che possa venire a Maranello però ripeto io la prima sensazione è che il rapporto con Horner sia rimasto solido perché se no eh col cavolo che ti avvicini al box li guardi soffrire e magari godi anche un po' eh seconda sensazione eh l'ingegnere di pista eh perché poi è geniale nelle soluzioni eh che mette in macchina ma poi è anche capace di essere l'uomo con lucidità che eh ti dà le indicazioni per venire fuori dai guai. Sì vedi questo di nuovo mi è ricapitato di nuovo credo sabato mattina di essere nel motoron Pirelli con Ivan Capelli e mi ha riconfermato quello che avevo già detto eh che a lui è molto bravo anche come ingegnere di pista ma credo che lì vada oltre ai rapporti con Horner a lui piace tantissimo essere utile essere eh sentirsi gratificato perché nonostante sia il numero uno ama da pazzi eh ogni piccola cosa che gli possa dare soddisfazione quindi la sua presenza ai box più che diciamo una completa riappicificazione o rapporti di lì a Cicongorne la vedo proprio nel tentativo di volere essere utile e quindi di poter essere ulteriormente gratificato e farsi vedere perché eh ama da pazzi queste cose e vanno oltre qualsiasi cosa politica discussione o o cose del genere arrivare se fosse riuscito per esempio a fare l'assetto magico da risolvere un po' la la situazione credo che lui sarebbe stato contentissimo come i suoi giri pazzeschi con la Lotus 49 Roberto sarà stato contento Pierre Vachet eh sì ma sai aggiungo una cosa perché Giorgio ha spiegato molto bene lo scenario eh Vachet sicuramente non tanto contento però ehm quello che noi pensiamo delle volte sì vabbè ma sta storia dell'hypercar magari sai ehm a chi vogliono chi vogliono prendere in giro in realtà è un progetto che eh da 300 milioni di 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 sterline quello dell'hypercar della Red Bull e che prevede la realizzazione di 50 macchine che andranno in produzione il prossimo anno al prezzo di 6 milioni e qualcosa l'una eh se se Newway eh devi tenertelo buono di Newway perché un conto è vendere la macchina di Adair Newway non dico che te la consegni lui perché probabilmente quando sarà pronta non potrà essere lui a consegnarla in divisa Red Bull però un conto è la sua macchina da lui firmata e certificata parlo del mercato un conto magari della prima Red Bull stradale e io credo che sia sia un tema caro a Christian Horner perché eh a livello finanziario si sono esposti tanto e per quanto la Red Bull per carità non abbia problemi in termini finanziari comunque è un'esposizione importante quindi tenersi buono Newway affinché finisca il progetto e lo firmi credo che sia una cosa importante da non sottovalutare. Veniamo alla McLaren. McLaren seconda con Oscar Piastri al Gran Premio di Monaco seconda anche alla 500 di miglia di Indianapolis con Pat Howard eh beffato eh praticamente nella fase finale da New Garden eh questa McLaren mostra una grandissima solidità perché Oscar Piastri eh punito a Imola per un impeding in realtà era stato davanti a Lando Norris anche in Emilia Romagna quindi il ragazzino l'ultimo arrivato comincia a farsi vedere. Eh sì hai ragione Franco eh bisogna anche dare un po' di tempo è il suo secondo anno in Formula 1 era stato ferma una stagione ehm io credo che sia un qualcosa di importante Piastri che sta crescendo eh ricordo per lo stesso Norris che adesso celebriamo come un pilota completo un top driver eh io mi ricordo c'è stato l'anno al fianco di Sainz in cui spesso era in difficoltà ma è un normale processo di crescita in una Formula 1 che non ha test privati quindi eh il pilota può imparare solo nel weekend di gara io non ho mai avuto dubbi sul talento di Piastri perché ho ho seguito il suo percorso ho parlato con chi ha lavorato con lui prima che arrivasse in Formula 1 facendo anche dei paragoni molto importanti eh quindi devo dire la verità non mi ha sorpreso è stata una bella conferma e io credo che eh la McLaren in prospettiva abbia una coppia di piloti formidabili quindi anche questo a meno che poi non comincino i problemi tra di loro però mi sembrano abbastanza maturi eh Piastri sembra un veterano quando parla quando si è giovanissimo però non lascia mai trasparire eh particolari emozioni eh mi ha colpito la saguida Monaco molto intelligente nel gestire la corsa ehm a un certo punto era sandwich tra le due Ferrari eh però è un nuovo che avanza di grandissima qualità. Ecco eh prima di tornare su Giorgio per parlare di Mercedes mi viene spontaneo chiederti ma con un Perez che si ritrova in questa situazione eh la Red Bull si può permettere di mantenere il messicano come secondo pilota? Fino a ieri l'altro dicevamo è la soluzione ideale perché tiene tranquillo Max che magari le sue voglie di scappare via se le fa passare almeno per un anno per il 25 poi su quello che sarà il 26 eh vedremo più avanti oppure per uno scenario dove Ferrari ha due punte McLaren ha due punte eh Red Bull comincia a essere corta. Sì io io credo che se non ci fosse stato eh il caos d'inizio anno probabilmente Perez avrebbe concluso la sua esperienza in Red Bull al termine di questa stagione. Dopo tutto quello che è accaduto ehm credo che invece ci sarà nel 2025 perché vogliono cercare di ridare molta stabilità al a un po' a tutto l'ecosistema Red Bull Racing e se la partenza di Perez può essere un'ulteriore criticità non perché va via lui ma perché non sai chi arriva come si troverà con Max come si inserirà posso capire che per un anno potrà ancora rimanere però la differenza di performance che c'è oggi tra tra i due piloti è notevole. Poi Helmut Marco devo dire che dà un po' un colpo al cerchio nella botta e a volte poi ci dice sì ma chi oggi non si prenderebbe quel distacco da Max. Siete proprio sicuri che c'è qualcuno diciamo sposa un po' la sua causa. Ehm ha detto una cosa importante a Monte Carlo. Max ha detto guardate che Ceco è sempre andato forte su questa pista. Abbiamo una macchina che è davvero imprevedibile nelle reazioni e quando una macchina non è prevedibile col muro a dieci centimetri ehm sei in una situazione diciamo non proprio ideale e come dire mi sono preso qualche rischio magari eh magari Perez no. Ehm vediamo io era partito molto bene facendo quello che la squadra gli chiede cioè due doppiette le prime due gare vediamo le prossime gare ma io credo sa Franco ho la sensazione ma puramente mia sensazione che che ehm Perez sarà confermato a breve anche perché così forse gli mettono più tranquillità. Molto bene allora veniamo a Giorgio Piola eh mi interessa il tuo parere sulla Mercedes perché è successa una cosa curiosa eh abbiamo detto in modo chiaro e forte che eh Monte Carlo non è una pista importante per l'aerodinamica ma la squadra della stella eh capita più di una volta che a Monte Carlo porta invece novità eh importanti. È successo in passato ed è successo anche eh in questo weekend. L'aspetto curioso è che eh George Russell ha utilizzato un'ala eh completamente nuova che era destinata al Gran Premio addirittura di Spagna. Poi nel lavoro del gioco degli anticipi cosa che la Mercedes fa la Ferrari no quando programma una cosa arriva col pacchetto nella gara definita eh è riuscita ad anticipare qualche cosa che arriverà in Canada di quest'ala che in realtà poi con l'unico esemplare esistente eh l'abbiamo vista fare prove comparative al venerdì con eh la macchina diciamo standard di Lewis Hamilton e eh Russell se l'è portata fino in gara e alla fine ha anche chiuso davanti alla macchina standard. Che che lettura dobbiamo dare a questa cosa? È che sono un po' disperati per conto mio per cui cercano di provare tutto. Questa che ci fosse un problema con l'avantreno della macchina eh lo avevano già detto che ci sia evidente forse anche un problema di correlazione tra la galleria del vento e il CFD e e poi la pista anche questo perché non è comprensibile che per tre anni presentino una monoposto che ha ambizioni e poi quando si trova a diretto contatto con gli avversari si dimostra una semicioffetta come anche questa W15. Quindi eh è stato fatto questo esperimento doveva essere appunto per una pista probante come quella di Barcellona perché quando una cosa va bene a Barcellona in teoria te la porti poi per tutta la stagione per questo che i test vengono fatti venivano fatti sempre a Barcellona per esempio non al Porricar dove non serviva proprio non era una pista probante per il resto no? E eh dalla disperazione io credo che sia proprio quasi il termine da dire l'hanno voluto anticipare e avevano soltanto un esemplare fra l'altro rischio pazzesco perché a Monte Carlo eh e mettere anche quasi un limite al pilota in più che non deve non solo non deve rischiare di toccare come succede con tutti ma qui in questa maniera ancora di più perché era l'unico ma soprattutto quello che sorprende che è un'ala che non ha niente a che fare con quella che è utilizzata sinora. Se vogliamo ha quasi più similitudine con l'ala dell'anno scorso. È completamente diversa in tutti i suoi elementi ma soprattutto cerca di mandare più flusso d'aria nella parte inferiore. Quindi molto probabilmente potrebbe essere una soluzione che potrà eh dare indicazioni buone. Ovviamente a Monte Carlo si è visto un leggero miglioramento eh però non non può essere questa eh diciamo la risposta definitiva. La dovremo vedere su piste. Io spero che ce la facciano a portarla già in Canada con più esemplari non soltanto eh per un solo pilota in modo che potranno fare esperimenti però di base c'è che la squadra evidentemente brancola un po' nel buio. L'aspetto curioso è che hanno lanciato l'idea geniale del cavetto al posto del flap mobile e eh è la soluzione che di fatto hanno buttato via dovendo poi ridisegnare eh al completo l'ala. Ma più che quella giustissimo Franco però la cosa che sorprende di più era la la unicità di di indirizzo del secondo elemento quello molto largo che sale su tantissimo sul muso e manda l'aria verso la parte superiore e a questo punto fa lavorare quel benedetto cavetto quella soluzione. Però molto probabilmente per conto mio e io ripeto e lo ripeto per l'ennesima volta le mie analisi sono eh sensitive non da eh super tecnico le lascio fare a Gianluca che lo sentiremo stasera. Eh eh evidentemente quella soluzione mandava troppo l'aria verso l'alto era una soluzione che l'abbiamo vista soltanto sulla Mercedes quindi evidentemente. Si dice che creasse dei vortici eh che cambiavano molto al variare della velocità. Roberto siamo quasi in chiusura volevo chiedere ancora una cosa eh la Formula 1 deve fermare Ocon la Formula 1 deve fermare Magnussen dopo quello che abbiamo visto ieri Bruno Famenti in principal di Alpine ha lasciato intendere in modo piuttosto chiaro che la cosa non finisce a Monaco per quello che riguarda Ocon ai due minuti. Guarda Ocon credo che sia una faccenda alpinna. Maglusen è una faccenda Formula 1 ehm Ocon diciamo a livello di pericolosità cioè ha vanificato il lavoro della squadra. Ha rischiato di mettere fuori dai giochi anche il suo compagno e e tra due tra i due non c'è mai stata non c'è mai stato buon sangue. Devo dire in qualche occasione anche Gasly eh si è si è difeso con i denti andando anche a stuzzicare il compagno. Il caso Magnussen credo che sia insomma sei nell'occhio del ciclone hai dieci punti sulla licenza. Una manovra del genere a Monaco non non viene fatta. A me hanno scritto in tempo reale tre quattro piloti dicendo ma cosa ha fatto? Cioè poi perché in quel punto? Tra l'altro con un avversario che non era neanche un tuo avversario diretto che probabilmente diciamo non era non fosse stato contro un Alfa Romeo. Non sarebbe stato giustificato. Magari potevo dire voleva sfruttare la chance. Era una Red Bull eh ha toccato con la posteriore la barriera. Sì. E poi ha perso la macchina. Ha perso la macchina. Quando parla che eh non gli è stato lasciato spazio. No se l'è fatta tutta da solo. Se l'è fatta. Tra l'altro ci sono delle immagini ha messo eh ha creato una situazione rischiosa per dei fotografi che erano eh sul lato destro dietro il Garrail eh poteva anche alla Red Bull la lista dei danni sarà una milionata. Per cui io credo che una gara a casa gli farebbe bene. Su sull'Arena se la decidano loro sull'Alpine perché è una questione annunciata. Va bene siamo arrivati in fondo a questo report amici di motosport.com grazie per essere arrivati in fondo eh commentate qui sotto eh fate le domande per la live di questa sera alle diciotto e trenta. Ringrazio Giorgio Piola ringrazio Roberto Chinchero. Ciao a tutti. Ciao.